Il consigliere di opposizione sottolinea come la vittoria di Cavallari annunciata dal sindaco sia in realtà una non vittoria a fronte degli innumerevoli. Il consigliere di opposizione sottolinea come la vittoria di Cavallari annunciata dal sindaco sia in realtà una non vittoria a fronte degli innumerevoli. Il consigliere di opposizione sottolinea come la vittoria di Cavallari annunciata dal sindaco sia in realtà una non vittoria a fronte degli innumerevoli. dell'USRL che smentisce completamente questo e allora questo non è il modo di procedere una città che deve avere una prospettiva nei prossimi vent'anni, che deve approfittare dei fondi del PNRR, della ricostruzione per dare un segnale di modernità. E allora noi parliamo di modello terramo da esportare quando l'Aquila diventa città capitale della cultura nel 2026, Pescara nel 24 ospiterà il G7, Chieti è piena di insediamenti industriali di grandissimo profilo, ci sarà un rapporto intercontinentale, la Pescara a Roma è una ferrovia che si sta creando, noi siamo il modello terra. D'altronde tutto ciò non è che lo diciamo solo noi, cominciano a dirle anche i consiglieri di maggioranza e allora evidentemente persone intelligenti che si rendono conto che la situazione non è più sostenibile. Si parla anche del rimpasto di giunta? E appunto, siccome questa situazione da casa del mulino bianco dove tutto è perfetto, sono perfetti, dopo un anno fanno un rimpasto, ma non so se il sindaco ha parlato con Mariani, se ci si confronta per capire cosa fare nell'ambito di questa nuova amministrazione. Valdo di Buonaventura, l'assessore, cosa farà? Andrà con azione? O azione andrà con Valdo e con il sindaco? Grazie.